Servirebbero almeno sei medici in più per alleggerire il carico di lavoro del personale sanitario del pronto soccorso del Santo Spirito di Pescara, dove attualmente sono impiegate circa 150 persone, di cui 75 infermieri, 21 medici e 40 operatori sociosanitari. Più volte al centro di polemiche per le lunghe ore di attesa denunciate dagli utenti, l'anticamera ospedaliera del Santo Spirito rappresenta attualmente una spina nel fianco dell'azienda sanitaria pescarese, non perché funzioni peggio di altri reparti di emergenza urgenza abruzzesi, ma perché in Italia i pronto soccorsi rappresentano un collo di bottiglia che a cascata sconta inevitabilmente problematiche mai risolte. A partire dal numero chiuso per l'accesso universitario alla facoltà di medicina, legato alla mancanza di fondi per pagare gli specializzandi nel percorso post laurea, che poi si traduce in carenza di personale, continuando con la paga dei medici delle strutture pubbliche che prendono la metà dei loro omologhi impiegati nelle cooperative private e di fatto disincentivati a lavorare nel pubblico, per finire con l'impossibilità di reperire professionisti con specializzazioni diverse da quella dell'emergenza urgenza, così come previsto dalla normativa vigente. Risultato, personale carente e allo stremo, alle prese con afflussi di pazienti che bussano al pronto soccorso anche per codici verdi differibili ai medici di famiglia, lunghe ore di attesa e sosta in corsia, aspettando ricoveri in reparti che, complice anche il covid, non riescono a smaltire pazienti. Una matassa ingarbugliata di fili annodati, insomma, tra cui non si riesce più a trovare il bandolo. E così, tra cittadini esasperati, politici che invocano dimissioni ai vertici della regione e denunce di presunta mala sanità che piovono sulle teste di sanitari disperati e stressati, abbiamo chiesto ad Antonio Caponetti, direttore sanitario della ASL di Pescara, a chi tocca farsi carico di questa emergenza. Noi assistiamo i pazienti, la gente che viene al pronto soccorso viene assistita, se no non si spiegherebbe perché la gente da Pescara e dei comuni livitrofi venga qua, stazionano lì più a lungo, ma sono certamente assistiti. Ci sarà qualche disagio, ma in un ambiente che è molto più confortevole di prima perché abbiamo un pronto soccorso grande, che è climatizzato, eccetera, eccetera. Quindi no, le condizioni rispetto a un anno fa, anzi, quando abbiamo messo su il nuovo soccorso decisamente migliorato dal punto di vista logistico, no? Però intanto le persone continuano ad aspettare ore e ore, se non giorni, in attesa anche di una sistemazione in reparti che evidentemente non accolgono più. Perché non c'è questo smistamento nei reparti di competenza? Perché i reparti sono pieni. Noi abbiamo delle leggi nazionali che decidono quanti sono i nostri posti letto, non è che le dici dalla casa del Pescara. Noi dobbiamo avere in questo paese 3.5 per mille abitanti, in Francia sono a 5, e in Germania sono a 7. Come dire? Che per legge si è deciso che gli italiani si ammalano di meno. E ripeto, queste cose le decide il governo nazionale, non questa AS e non questa regione. Quindi quelli che in questo momento stanno governando i paesi devono cambiare questa situazione e devono investire sulla sanità. È inutile venire a chiedere a noi. Noi tutto quello che abbiamo l'abbiamo investito anche per attrezzature più che moderne. Uno c'è un'iperaffluenza che non è dovuto solo alla popolazione di Pescara. Quindi gli altri pronto soccorso limiti si devono attivare e devono dare prestazioni. Non possono scaricare tutto su questo pronto soccorso. Due, c'è un problema nazionale. Se i medici di pronto soccorso non li troviamo perché non si trovano, il governo deve provvedere a dare più soldi a queste persone di modo che si rendano disponibili. Ma non è una cosa che può fare questa AS o questa regione. Gli accordi sono nazionali. Il governo deve agire. Una collaborazione tra ASL, CEC, per esempio con Chieti che è chiaramente la più vicina. In questo senso c'è da anni in ballo la costituzione del 118 unico di aria più vasta. Ci stiamo lavorando da anni. Ancora non si è creata, anche se come ASL di Pescara stiamo insistendo in un modo più che accentuato perché si realizzi. C'è qualcuno che, ripeto, non è questa ASL che deve fare. Vincenzo Ciamponi, direttore generale dell'ASL di Pescara, aggiunge che è allo studio una manifestazione di interesse per sapere se all'interno della stessa azienda sanitaria ci siano professionisti disponibili a coprire i vuoti del pronto soccorso. Sarebbe un estrema razio che servirebbe a scongiurare anche il quadro che si sta delineando nei pronto soccorsi del Nord Italia, dove molte ASL stanno richiamando i medici in pensione per tamponare le emergenze.